Usare bollica fresca, di pane fresco. Anche quando faccio la panatura per il pesce, oppure per i peperoni, oppure per i pomodori da fare al gratin, preferisco fare il pane, vedete anche questo, dopo lo doperremo, questo è del pane fresco. Non lo passo nemmeno. Perché non lo passo nemmeno? Non lo passo perché mi piace che quando vado a mangiare il pomodoro arrosto, la zucchina, trovo questo pane che è fragrante. Perché il pane quando è buono? Quando è fresco. Già il giorno dopo il pane dice, ma guarda, mi piace quella mortadella, mi piace quello fresco. Io ho adottato questo modo di fare il pane perché mi piace poi trovare questi pezzi di pane in crisi di olio, con un po' saporiti, insomma fanno festa, sono buono, sono molto...